Per tante persone molto impegnate come voi, la digitalizzazione per molti versi è un dono dal cielo. Quando rientrate a casa la sera, se avete urgentemente bisogno di una camicia nuova, la potete ordinare semplicemente online. Ma una volta in ufficio, l'aria cambia completamente. Riunioni, memo, fax, telefonate e poco prima di finire la giornata di lavoro, il responsabile della produzione ha urgentemente bisogno di un adesivo specifico. Non sarebbe bello che l'adesivo si potesse ordinare facilmente come la camicia? Non complicatevi la vita inutilmente. Usate E2E, E-Business to Efficiency, la soluzione E-Business della Wörth. La E2E è una delle tante soluzioni per la gestione degli articoli C. Lei è lo stesso responsabile della produzione, potrete acquistare prodotti nello shop online e con la funzione Cerca l'adesivo tutto diventerà ancora più veloce. Basta inserire il campo di impiego e le caratteristiche tecniche, verificare il tutto e ordinare. Fatto! I collaboratori possono fare l'ordine direttamente attraverso lo scanner abbinato allo scaffale Orsi. Scannerizzando il codice a barre, il prodotto finisce automaticamente nel carrello. Successivamente basta verificare brevemente il tutto, ordinare e fine. Per tutti coloro a cui piace essere mobile, c'è la Wörth App, dove si trovano le funzioni principali dell'online shop, compresa la scannerizzazione. Ovunque e in qualsiasi momento, vale anche per l'Orsi Mat, che funziona come un distributore automatico di bibite, ma eroga DPI. L'Orsi Mat è disponibile in diversi modelli per diversi tipi di prodotti. I dipendenti possono prelevare 24 ore su 24 i loro occhiali di protezione, i guanti e anche gli utensili. Gli articoli vengono riordinati in automatico. Mamma mia! Quanti sistemi nuovi a cui bisogna abituarsi! Non è così. E2E consente di collegare il vostro sistema ERP al sistema di gestione materiali di Wörth, ad esempio mediante EDI. In questo modo avrete sempre tutto sotto controllo con il vostro sistema abituale e con la massima trasparenza. Che sia un ordine, una consegna o un processo di fatturazione, Wörth fornisce i dati elettronici del proprio catalogo anche per la vostra piattaforma multimarca, anche tramite OCI, per snellire ulteriormente i processi. E2E. E-business to efficiency. Facile come acquistare una camicia, solo con un referente personale a propria disposizione.